L'arte risveglia l'amore, Epta di 9 Essere ricchi senza un centesimo in tasca Siamo nel cammino della Eptade della terza luna, luna del servizio, luna del cervo, dell'anello solare 37 della tempesta blu ritmica, KIN 19 Epta di 9, l'arte risveglia l'amore Oggi iniziamo una serie di testi che ci guideranno in questa apertura della coscienza sulla vera ricchezza che possediamo Vi invito a immergervi in queste riflessioni con me e contribuire con le vostre percezioni Vi ricordo che è disponibile anche la registrazione del workshop stabilizzando la mente Conosci la chiave del nuovo mondo che nasce dentro di te Perché queste parole? La causa è la salvezza del pianeta e la libertà mentale e creativa dell'essere umano Più che un testo di autoaiuto l'obiettivo è quello di aiutare il pianeta Se tutti desiderassimo le stesse cose e se tutti definissimo la ricchezza come la piramide del capitalismo Staremmo uccidendo noi stessi il pianeta, la biodiversità, i sistemi idrici e atmosferici Bisogna comprendere l'urgenza di riformulare il pensiero umano, la mente umana E dirige la indirezione del campo delle ricchezze immateriali Ciò garantirà un futuro autenticamente ricco ed espansivo In modi che mai avremmo potuto immaginare prima Con tutti gli strumenti, le ferramenta, come dice Andrè Che abbiamo a disposizione oggi e un corretto orientamento verso il bene L'umanità può diventare la civiltà unificata dalla ricchezza immateriale che è descritta in questo testo Materialismo e la ricerca della realizzazione Dall'emergere del processo storico, la ricerca dell'essere umano per l'autorealizzazione Ha camminato di pari passo con il materialismo Il materialismo ha condizionato il pensiero umano riducendo la vita e le forme di pensare Nella direzione comfort e sicurezza Giustificando l'emergere delle macchine E l'esternalizzazione della responsabilità Nonché l'esternalizzazione della coscienza di sé La dipendenza dall'esterno divenne la norma E l'assenza della dimensione interna divenne oblio Nello stesso momento in cui l'accelerazione della vita culmina nel picco dell'estremismo L'essere umano inizia solo a gattonare nella sua ricchezza innata Soffrendo le conseguenze di una mente e di modelli di credenza mai messi in discussione Lo scopo di questo testo non è quello di negare il denaro Ma di aiutare a capire che con il passare dei secoli Nasciamo sempre ricchi e moriamo sempre più poveri E ciò che ci rende poveri è il profondo oblio di chi siamo E cosa siamo venuti a fare in questa esistenza Ricordare chi siamo significa attivare la nostra piattaforma di biotecnologia A favore dell'armonia e della costruzione creativa di nuovi orizzonti Mentre andiamo avanti L'illusione della bollette e della sofferenza Anche se questo potrà sembrarvi astratto E se la domanda potrà essere definita riduzionista Non potrete rimanere silenziosi e non fare questa domanda E chi pagherà le mie bollette? E la mia risposta sarà un'altra domanda Perché hai delle bollette? Tutti abbiamo bollette da pagare Per le nostre necessità Ma la maggior parte delle volte non si tratta di bisogno di qualcosa Ma di desiderio per qualcosa Ed è per questi desideri che di solito ci mettiamo in un tunnel senza uscita In portoghese e brasiliano si dice Mettersi in una gonna giusta Il senso è più chiaro Senza libertà di scelta nel movimento Mettendoci dunque anche nella sofferenza Se soffri Anche se hai molti soldi Non sei ricco Se sei pieno Anche se non hai molti soldi Sei ricco Desiderando Apri la porta della sofferenza Sebbene questa riflessione dialoghi con gli insegnamenti del Buddha Che afferma che tutta la sofferenza nasce dal desiderio L'idea qui non è quella di fare riferimento alla dottrina Ma di suggerire Affermare Che se hai il controllo sui tuoi desideri Stai già coltivando una ricchezza immateriale Che avere il controllo della tua mente La scuola della ricchezza è la scelta tra ricchi e poveri Nella mia breve vita ho vissuto esperienze varie E qualcosa che mi ha sempre turbato E che ha sempre provocato la mia riflessione È stato pensare a come portare le persone fuori dalla sofferenza Come creare una scuola per la ricchezza del mondo Sognavo la scuola della ricchezza E sognavo di aiutare i poveri a cambiare il loro modo di pensare Vedere e interagire nel mondo Basandomi sulla mia esperienza Ho potuto capire che la ricchezza che sogniamo Nasce nella mente Nello spirito umano E che la terza dimensione In cui il corpo naviga È lo spazio per mettere in pratica le nostre scoperte Vivendo e osservando i modelli di funzionamento della mente umana Ho capito che ricchezza e povertà sono scelte Forse sei nato Senza risorse materiali Senza affetto e senza opportunità Ma sei nato Sei qui E puoi rinascere come vuoi Se lo desideri profondamente Se lo vuoi profondamente Non poteva mancare di citare il mago Malucco bellezza Tradotto bellezza pazza E la sua canzone Tente o travesse In italiano Prova un'altra volta Io l'ho appena vista Ed è un trip inimmaginabile Prima di tutto vedere il video E ascoltare la musica E leggere il testo che Vi ho messo nel post Su abckin.it Blog Eptode 9 In questa canzone Raul Seixas Esprime la potenza che siamo E la capacità che abbiamo Se siamo sinceri E se desideriamo profondamente In questo caso Di rinascere nella ricchezza innata Nell'intelligenza E nella mente superiore Questo è il drago Prova ancora una volta Dice Raul Seixas Vedi Non dire che la canzone è persa Abbi fede in Dio Abbi fede nella vita Prova ancora una volta Bevi Perché l'acqua viva È ancora nella fontana Perché hai due piedi Per attraversare il ponte Non è finita Prova Alza la mano setata Inizia a camminare Non credo che la testa Possa sopportarlo Se ti fermi C'è una voce che canta C'è una voce che balla C'è una voce che gira Danzando nell'aria Volere Essere sincera E desiderare profondamente Sarai in grado di scuotere il mondo Prova ancora una volta Riprova Non dire che la vittoria è persa Se è di battaglia Che si vive la vita Prova ancora una volta La scommessa Su te stesso Se stai leggendo queste parole E vuoi andare avanti Diventando ricco Senza un centesimo in tasca Sappi che il primo passo Che dovresti fare È scommettere Devi scommettere su te stesso E devi scommettere Su questa mia condivisione Bisogna sapere Che se ti trasformi Puoi trasformare il mondo E anche solo pensando A questo futuro Veramente ricco Questa scommessa Varrà la pena Senza questa scommessa Non sarà possibile Andare avanti Devi fidarti E abbandonarti Alle riflessioni Che questo piccolo testo Ti sta dando Forse sei arrivato fin qui Pensando di diventare Più ricco materialmente Guadagnando più soldi Per acquisire bene E realizzare sogni Bene Lo pensavo anche io Finché il vero Dell'illusione Non è caduto E ora Non faccio più parte Del circo Che il sistema impone Ho lavoro Ho progetti Ho soldi Ho tutto quello che volevo Ma non è stato Con l'ossessione Del denaro Non ho creduto Che il denaro Potesse fare qualcosa Per me La questione Era di credere E scommettere su di me Denaro e ricchezza interiore Il denaro E tutta la materia Che puoi comprare Sono illusioni passeggere Ma il tuo sviluppo interiore È una realizzazione Duratura Sostenibile È un tesoro Che la tua anima Possiederà Per l'eternità Se sei ridotto Ricco Senza un centesimo In tasca Sarai davvero ricco E saprai Quanto è fantastica La vita E quanto meraviglioso Sia essere Vuoi capire La necessità Di scommettere Capire che non hai Nulla da perdere Si scommetterà Semplicemente Su se stessi Si dirà Io Sono in grado Di riflettere Su questo testo E se ha senso Per me Io Sono in grado Di incorporare Le ricchezze Che sono qui Sul mio cammino Cominciamo a percepire Connessioni Che prima passavano Inosservate Gli schemi Emergono Dal caso apparente Le intuizioni Nascono Nei momenti Più inaspettati Investendo In attività Immateriali Quando hai denaro Investi Sia in risparmi Sia in qualcosa Che ti dà dei rendimenti Moltiplicando Il tuo denaro L'idea Dell'investitore Del capitalismo È questa Aumentare I profitti Per alimentare Sempre di più I desideri Nel caso Presentato Da questo mio testo Investirai In breve Medio E lungo Termine Nel tuo Capitale Umano Investirai In capitale Spirituale Sociale Ecologico Planetario Investirai Nel tuo Capitale Tempo Potresti anche Scherzare Quanto ha fruttato Oggi il mio Capitale Immateriale E raccogliere I frutti Di un risultato Ecosistemico L'ecosistema È un modello Mentale Che ci aiuta Ad avere Una visione Del tutto E ad affrentare La realtà Come un sistema Dove le persone Le risorse Sono interconnesse È essenziale Per ogni imprenditore Del futuro Avere questa Visione Olistica Economia E riflessione Economia Significa Ottenere Il massimo Utilizzando Il minimo Se siete Su questa Strada Perfetto In caso Contrario È il momento Di rivedere Il vostro Capitale Genera Deficit Surplus Profitti O perdite Riflettiamo Sui capitali Immateriali Nei prossimi Testi Delle Eptadi Vi suggerisco Di iniziare A pensare E aggiungere Un quaderno Economico Da qui Spero Che questo Salto Di coscienza Abbia Senso Per te Ti aspetto Con amore E gratitudine Nella nostra Prossima Riflessione Questo è il testo Di Andrè Streller Per l'epdode Numero 9 Tradotto E raccontato E editato In versione audio Da Almavox 109 Z Cinzia In servizio Trovate il testo Scritto Sul blog Del sito www.abckin Con la k Naturalmente Punto it In l'Akesh Trò 1 3 1 3 1 Radio P vez Di Grazie a tutti.